Il patrimonio culturale di Siena diventa sempre più ricco grazie ad un doppio progetto che ha visto la digitalizzazione dell'Evangeliario e la rilevazione laser dei bottini con il restauro della fonte di Fonte Branda. A realizzarlo il Comune di Siena con il contributo del gruppo Acea che ha coperto l'intero costo delle due progettualità. Tra l'allontano perché subito all'inizio del mio mandato e su sollecitazione della biblioteca abbiamo comprato uno scanner di ultima generazione che ha consentito sia questo tipo di lavoro e poi con Acea e con Acquedotto del Fiore e con la Diana avete visto il lavoro a mio modo di vedere molto suggestivo non solo scientificamente molto bello ma anche molto suggestivo per quanto riguarda la fessitura dei bottini. Per l'Evangeliario un prezioso lezionario bizantino databile alla seconda metà dell'undicesimo secolo è stata realizzata una digitalizzazione completa e una campagna fotografica in alta risoluzione. Il risultato finale è il nuovo allestimento visibile nel complesso museale del Santa Maria della Scala. Per quanto riguarda i bottini, gli interventi principali hanno riguardato la mappatura del tratto del bottino maestro di Fonte Gaia che insiste sul territorio del Comune di Siena e la redazione di una proposta progettuale per gli interventi di restauro e recupero della fonte di Fonte Branda. Il terzo intervento riguarda la messa in sicurezza di un tratto del bottino maestro di Fonte Gaia nel tratto tra Piazza del Campo e l'area della Biblioteca degli Intronati con l'obiettivo di renderlo accessibile al pubblico. Le due ristrutturazioni rispecchiano un po' quelle che sono due nostri pilastri dei piani strategici. Il primo è la digitalizzazione delle reti e qui abbiamo visto la digitalizzazione di una vecchia rete acquedottistica realizzata con tanta fatica negli anni passati che si connette benissimo all'altro aspetto fondamentale di cui dovremo tenere molto conto in futuro che è il rispetto della risorsa idrica.